Segretario, un'altra avvertenza nosa, lunga, interminabile è quella dell'aeroporto Gino-Lisa. Lei continua a crederci? Noi dobbiamo crederci, dobbiamo spingere la regione a velocizzare alcuni provvedimenti. Speriamo che anche la lentezza della burocrazia porti qualcosa di positivo per questo territorio. Il progetto, noi l'abbiamo detto, quello di portare a Foggia la protezione civile regionale, quindi la base regionale, per noi è un progetto valido, ma il giudizio resta sospeso perché fino a quanto questo progetto non si realizza, ovviamente noi siamo preoccupati perché di chiacchiere in questi anni ce ne sono state tantissime. Noi quello che vogliamo sono i fatti. Credo che però se si lavori in maniera alacre rispetto a questo tema possiamo realizzare un qualcosa di positivo al di là dell'allungamento della pista che va fatto e che comunque la protezione civile, anche senza l'allungamento della pista, può dare risposte a questo aeroporto e rilanciare lo stesso aeroporto. So, grazie.